Prima cosa, diciamo un piccolo trucchetto nel quando racconti storie, le tue esperienze o cose simili diciamo si specifico nel raccontare qualcosa quindi un conto è dire sono stato in questo ristorante e ho mangiato un hamburger sono stato in quel ristorante che è al secondo piano della galleria Vittorio Emanuele e ho mangiato l'hamburger più buono che ho mangiato nella mia vita questo diciamo è già molto più specifico quindi una cosa da sapere per creare più interesse in ciò che racconti è entra nei dettagli, si specifico in ciò che racconti quindi questo è giusto un esempio però lo puoi riportare con qualsiasi altra cosa ti capita mai di rimanere senza argomenti di conversazione con una ragazza al vivo? oppure ti capita mai di non provarci nemmeno perché non sapresti cosa dirle? se sì, quello che fa per te è Conversazione Magnetica il corso più completo in Italia per imparare la conversazione dal vivo con ragazze sconosciute con tanto di esempi di conversazioni reali registrate con microfono nascosto il corso rimane acquistabile in sconto del 40% fino al 9 ottobre poi tornerà al suo prezzo di ristino per maggiori informazioni clicca sul link qui sotto in descrizione hai domande o dubbi? scrivi gratis su Whatsapp a un nostro consulente esperto anche qui trovi il link cliccando qui sotto in descrizione poi non prenderti troppo sul serio quando sei a parlare con una ragazza questo qua è più che altro una cosa da capire a livello di mentalità quindi di mindset quindi devi ripetertelo molte cose devi ragionarci molte volte su questa frase che ti ho appena detto quindi non prenderti troppo sul serio quando sei lì a parlare con una ragazza non stai andando in guerra o in una missione di salvataggio non è una questione di vita o di morte nel momento in cui riesci ad assimilare questo concetto di mentalità e non lo riesci ad assimilare sentendolo adesso una volta se è la prima volta che lo stai sentendo non ti serve a niente sentirlo una volta lo devi sentire centinaia di volte ti aiuterebbe anche a scrivertelo per esempio tutti i giorni a riempire la pagina di un quaderno scrivendo una cosa del tipo quando parlo con una ragazza devo essere più sciolto e non prendermi troppo sul serio non è una missione di salvataggio non lo so una cosa di questo tipo il ripetere tante volte diciamo con una frase scrivendola la fa entrare nel tuo inconscio e di conseguenza poi agisci sulla base di questa credenza quindi sicuramente ne abbiamo già parlato nell'introduzione di questo videocorso sul come appunto si vanno a riprogrammare le credenze quindi lo ribadisco anche qua sentire una volta soltanto le informazioni di questo corso è assolutamente inutile sì prenderei qualche concetto però sentirle solo una volta non è così che si studiano i corsi, i videocorsi ma qualsiasi cosa sentire un'informazione solo una volta non fa in modo che entri nel tuo inconscio e per agire sulla base di queste informazioni vanno risentite tante 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 volte come in realtà qualsiasi cosa cioè non hai imparato a guidare guidando solo una volta è solo un esempio si può applicare questo ragionamento con un sacco di altre cose però non è adesso questo un videocorso sulla mente inconscia altro consiglio riscaldati ovvero prima di iniziare ad approcciare potresti fare qualcosa che ti mette in uno stato emotivo più socievole e più divertito prima di iniziare ad approcciare le ragazze come in realtà potresti in realtà tranquillamente iniziare a riscaldarti con le ragazze puoi anche se vuoi farlo io lo consiglio per esempio io lo facevo agli inizi non sempre, non tutte le volte innanzitutto io facevo uno degli esercizi di conversazione che vedremo poi nella lezione successiva quindi sugli esercizi facevo l'esercizio di conversazione del prendere una parola a caso parlarci sopra per un minuto o più minuti vedrai questo esercizio nella lezione successiva sugli esercizi quindi ricordati poi di questa parte qua puoi partire con quello puoi fare qualcosa che ti mette in uno stato emotivo più divertito anche senza necessariamente approcciare qualcuno o una ragazza per esempio quello che ho raccontato io che delle volte mi mettevo a fare il verso del piccione ai piccioni in piazza Duomo è una cosa che mi faceva ridere oppure magari mi ricordo di persone che salutavano la gente a caso per strada per iniziare a mettere e guardavano le reazioni della gente stranita era quello più che altro che faceva ridere questa persona che salutava la gente a caso per strada e guardava le reazioni stranite della gente poi ogni tanto qualcuno ti risaluta indietro è una cosa che a questa persona faceva ridere quindi ognuno si trovi un modo per mettersi in uno stato emotivo più socievole, più divertito non è necessario farlo per forza questa cosa però puoi anche partire per esempio approcciando magari un po' di ragazze in maniera indiretta se magari il passo dell'approcciare una ragazza in maniera diretta ti spaventa quindi puoi approcciare magari 5 ragazze in maniera indiretta quindi chiedendole magari un'opinione sul regalo da fare a un'amica un'informazione, un'indicazione consiglio più che altro magari di chiedere un'opinione su qualcosa su un regalo da fare a un'amica magari preparati anche delle transizioni di argomento già preparate in modo che sai già come allungare il discorso per parlare con la ragazza almeno 1-2 minuti in questo modo inizi comunque a riscaldarti a livello sociale quindi entri in una modalità più sociale, più socievole perché se approcci soltanto una ragazza ogni x giorni non è una cosa che non ti aiuta ma avere interazioni anche magari in maniera indiretta quindi in realtà io consiglio se lo si riesce a fare fin da subito fare già tanti approcci in maniera diretta a diverse ragazze quindi partire già con questo però puoi anche riscaldarti in questo modo se magari il passo lo vedi troppo lungo quindi approcciare subito in maniera diretta questo riscaldamento è molto importante soprattutto per chi è agli inizi poi nel momento in cui migliorano le tue capacità la tua base di stabilità interiore la tua base di fluidità di conversazione è già alta e quindi non ti serve riscaldarti prima di approcciare ragazze però per esempio mettiamo proprio uno dei lavori migliori che potresti fare se proprio parti a zero che sei anche spaventato dall'approccio alle ragazze potresti fare appunto un esercizio di conversazione prima mentre magari stai andando sul campo quindi magari dico proprio quello che facevo io io scendevo una fermata di metro prima rispetto a piazza Duomo a Milano e mi facevo una fermata di metro a piedi nel mentre facevo questo esercizio di conversazione di prendermi una parola a caso e improvvisare un monologo di un minuto poi ne parleremo meglio nella lezione sui esercizi quindi facevo questo esercizio qua quindi iniziavo a riscaldare la voce e la fluidità di conversazione poi dopo potresti fare magari qualcosa che ti mette in uno stato più divertito non so saluti la gente a caso non lo so, non sto a dare suggerimenti perché poi sono anche cose strane alla fine però dipende da quello che ti fa ridere da quello che ti mette in uno stato emotivo divertito quindi puoi fare questo ancora qua non stai iniziando ad approcciare diciamo in maniera seria poi dopo non lo so, inizi a approcciare fai 5 approcci indiretti a 5 ragazze diverse e ti metti proprio il timer siccome sono approcci indiretti non è che devi stare a farti troppi problemi devi solo approcciare in maniera indiretta e ti metti di farli in 10 minuti, 15 minuti in modo che essendoci poca distanza temporale fra un approccio e l'altro meno distanza temporale fra un approccio e l'altro più ti riscaldi velocemente con la conversazione se invece ne approcci una poi aspetti un'ora e ne approcci un'altra non si crea questo momentum positivo e di conseguenza non ti riscaldi a livello di conversazione, fluidità ecc una cosa che ho notato fin dagli inizi è che dopo aver fatto un instant date o un appuntamento se poi continuavo ad approcciare ragazze vedevo che ero molto più fluido, molto più scherzoso molto più socievole negli approcci nuovi perché c'era già stata prima magari una conversazione di 2 ore con un'altra ragazza in un instant date oppure in un appuntamento e lo stesso principio è questo quindi più ti riscaldi parlando con qualcuno che siano ragazze che approcci in maniera indiretta che siano approcci diretti eccetera comunque il riscaldarti a conversare con gente sconosciuta ti aiuta poi con le interazioni successive ti posso garantire che al primo approccio sarai magari un po' freddo bloccato eccetera al decimo approccio nella giornata stessa o comunque al quinto approccio quello che è negli approcci successivi rispetto al primo sei molto più sciolto è una cosa importante quindi riscaldanti a livello di conversazione sei molto più sciolto hai più riflesso pronto eccetera quindi il concetto è riscaldamento riscaldati con varie conversazioni poi dopo puoi iniziare ad approcciare però anche se inizi ad approcciare subito le ragazze che ti piacciono in maniera diretta è inevitabile che il quinto approccio della giornata molto probabilmente sarà più fluido più sciolto rispetto al primo approccio della giornata a meno che comunque non hai già tanta esperienza alle spalle però questo videocorso verrà visionato per la maggior parte da persone suoi inizi poi quando sei a livelli più esperti non è che cambia molto che il primo approccio a me capita spesso che magari al primo approccio vado in instant date oppure magari faccio un'interazione molto lunga con la ragazza adesso parliamo di alcune frasi barra domande bandite vietate categoricamente non si dicono queste cose che adesso ti vado a dire alle ragazze vietato categoricamente robe del tipo parlare del meteo per esempio oppure lamentarsi del meteo amica che caldo fa oggi che freddo oppure commenti sul meteo dire oggi fa veramente caldo oggi c'è veramente sole non si fa che cazzo le fai capire esattamente che non sai che cosa dire e questo lo vedono i corsi a vivo quando saltano fuori queste argomentazioni cioè io lo vedo già è perché lo studente non sa che cosa dire alla ragazza quindi non si parla del meteo e soprattutto non ci si lamenta del meteo frasi del tipo vabbè a parte le domande banali che poi diciamo ti sarà molto più chiaro questo concetto quando analizzeremo le mie registrazioni dei miei approcci quindi più avanti in questo corso le domande banali del tipo cosa fai nella vita di dove sei quanti anni hai già ci può stare di più probabilmente ne abbiamo già parlato anche in una delle lezioni precedenti non mi ricordo esattamente comunque le domande banali modalità intervista soprattutto nei primi secondi di conversazione no farle tramite supposizioni comunque questo non è tanto importante però il discorso domande del tipo cosa fai di bello nella vita no queste domande qua con la parola bello cioè sono proprio da galera cioè veramente sono frasi cioè sono domande che fanno scendere la trazione alla ragazza in una maniera in una maniera pazzesca non farlo non farlo ok soprattutto se sono domande che le fai all'inizio non farlo ma proprio non deve più esistere nel tuo vocabolario una domanda del genere cosa fai di bello nella vita cosa fai qui di bello oggi che mi racconti no non si fanno queste cose non si dicono queste cose alle ragazze né all'inizio della conversazione né più avanti né mai ma neanche alle persone cioè bandisci queste parole queste domande dal tuo vocabolario in qualsiasi situazione domande del tipo cosa ti piace fare nel tempo libero non si fa vietato sono proprio domande che fanno capire che non sai che cosa dirle non si fa non si chiede che cosa ti piace fare nel tempo libero non si fa anche il quali sono i tuoi hobby no non farlo non farlo sono domande che fanno capire alla ragazza che non sai che cosa dire oppure domande del tipo per esempio se magari siete a Milano e tu le chiedi ti piace Milano no non si fanno domande di questo tipo le stai comunicando che non hai la minima idea di che cosa dire non si fa oppure un'altra cosa che veramente ammazza la conversazione in una maniera pazzesca che veramente io a certe volte quando sento queste cose qua magari tramite alcuni miei studenti che mi inviano le registrazioni magari tramite delle coaching private che mi inviano le registrazioni dei loro approcci e quindi io sento che cosa dicono alle ragazze e quindi sento questi errori qua oppure se li vedono i corsi al vivo i corsi al vivo è già capitato molto di meno di sentire queste cose qua ovvero il fatto di rispondere alla ragazza quando lei ti dice qualcosa e tu le rispondi con ah ok capito ah ok ah interessante non si risponde così a una ragazza cioè è proprio una roba che ammazza l'attrazione la conversazione in una maniera pazzesca cioè lei ti dice qualcosa non so ti dice studio architettura e voglio trasferirmi a Barcellona per lavorare come architetto e tu le dici ah capito cioè veramente in questo momento mi sale il nervoso nell'immaginarmi una risposta di questo tipo non si fa veramente vietata è una cosa che ammazza la conversazione e l'attrazione in una maniera pazzesca e d'altra parte mi ricordo io di una ragazza ho questa registrazione audio per chi ha già il videocorso d'approccio al sesso c'è se ci fai caso per chi chiaramente mi ricordo a chi ha già il videocorso d'approccio al sesso c'è una registrazione di un mio appuntamento di un paio di ore dove sono arrivato al bacio dove è la ragazza a fare questa cosa qua con me che io veramente da un certo punto mi stavo innervosendo cioè chiaramente non si sente nella registrazione audio e che lei continuava a dire non continuava però c'erano molti punti della conversazione dove era lei a dirmi capito non si fa cioè se vuoi mantenere vivo l'interesse di qualcuno se vuoi mantenere quindi in questo caso la ragazza le ragazze sono autorizzate a non sapere come si fa a conversare quindi in questo caso va bene però tu uomo che hai preso questo videocorso sulla conversazione vietato non si risponde a una ragazza con ah ok ti dice qualcosa e tu dici ah ok ah capito non si fa ok vietato categoricamente sviluppa quello che ti dice con un commento con una frase con un qualcosa e poi dopo magari passi a una domanda successiva oppure magari le fai subito un'altra domanda dipende altro consiglio non copiare spudolatamente ogni cosa che dirò nelle mie registrazioni delle delle mie conversazioni registrate a microfono nascosto o a telecamera nascosta non copiare ogni minima singola frase che adesso spieghiamo bene in realtà si passa inevitabilmente da una fase del copiare infatti sentirai nelle mie conversazioni quando poi c'è la parte di analisi alcune cose proprio dico che le ho copiate da altre persone dalle quali imparavo però inevitabilmente all'inizio si passa per una fase del copiare alcune cose alcune parti che magari ti piacciono ti divertono ti fanno ridere quindi il consiglio è di copiare magari qualche parte qualche frase qualche battuta che dico che magari ti fa ridere a te quindi mentre che ascolti le mie conversazioni nella parte apposita del corso segnati magari qualcosa che ti fa ridere di quello che dico la ragazza oppure qualche domanda qualche parte buona qualcosa che dici ma questa è interessante potrei riproporlo riutilizzarlo con le ragazze con i tuoi approcci ti segni te lo segni e ti metti queste cose queste battute che faccio queste frasi che dico te le metti diciamo nel tuo bagagliaio di diciamo non so come dire di colpi da sparare all'occasione ma non farli uscire in maniera forzosa cioè non è che devi prepararti nell'approccio adesso le dico questo poi questo poi questo poi questo e ti prepari tutte le transizioni di argomento per dire tutte le cose che ho detto io così non funziona non arriverai da nessuna parte abbi questo tuo bagagliaio di battute frasi cose interessanti che ho detto io che magari ti sono piaciute che vuoi riproporre segnatele e poi quanto meno hai questo tuo bagagliaio mentale e se salta fuori in maniera contestuale puoi dirle qualcosa che ho detto io ora inevitabilmente si passa per questa fase del copiare quindi inevitabilmente copierai alcune frasi mie battute mie ecco va bene è giusto non sto dicendo che sia sbagliato altrimenti non le avrei messi in un videocorso quindi va bene è giusto copiare le ho messe lì apposta però copia con un minimo di buonsenso ora il buonsenso non appartiene alla maggior parte delle persone quindi è un problema spiegare la cosa del buonsenso però facciamo degli esempi che sicuramente ne ho parlato anche poi ne parleremo poi nelle registrazioni delle conversazioni a microfono nascosto o telecamera nascosta per esempio il discorso della psicologia dei colori lo capirai quando sentirai le mie conversazioni ho insegnato questa cosa qua ad alcune persone che seguivo a distanza e che poi mi mandavano le loro registrazioni degli approcci a usare la cosa della psicologia dei colori a caso che sarebbe una cosa poi la sentirai nelle registrazioni delle mie conversazioni ma a usarla totalmente a caso senza alcun senso nella conversazione approcciavano la ragazza di questi studenti che me la copiavano in maniera a caso senza un minimo di senso che approcciavano la ragazza la tua vista sembra di carina eccetera piacere e poi partivano subito con scommetto che il tuo colore preferito è l'azzurro senza senso ok poi come ho detto capirei questa cosa qua nelle registrazioni delle mie conversazioni oppure le supposizioni molti quelli che studiano poi le registrazioni delle mie conversazioni audio o video iniziamo a copiare le mie supposizioni che da una parte va bene se è giusto ma devono avere un minimo di senso c'è da capire che tutte le volte faccio delle supposizioni non sono a caso quando io dico a una ragazza vediamo se indovino dal look secondo me fai giurisprudenza questa roba è una roba che tutti mi copiano a caso tutti quelli che poi studiano i miei contenuti tutti a dire secondo me fai l'avvocato secondo me fai giurisprudenza no non va fatto a caso fai una deduzione reale in base al suo look in base al suo aspetto quando fai la supposizione per cercare di indovinare che lavoro fa lei o che cosa studia cosa fa nella vita io molto spesso le indovino quando faccio queste supposizioni indovino che magari che l'indovinare nello specifico il lavoro è piuttosto difficile però magari indovino il settore il colore preferito spesso lo indovino la provenienza della ragazza spesso la indovino ma perché sparando a caso non lo indovini lo indovini ogni tanto tanto io lo indovino molto spesso queste cose qua ma non perché sparo a caso perché c'è dietro una deduzione sensata una supposizione sensata se copia a caso non ha alcun senso quindi poi lo sentirei bene tutti gli esempi nelle mie registrazioni nelle mie conversazioni però l'invito è non copiare a caso l'ho messo le mie registrazioni in questo corso perché si possa copiare quindi perché tu possa prendere qualche frase qualche battuta qualche cosa interessante che ho detto qualche aneddoto interessante che ho detto magari qualche dinamica comportamentale che non sapevi per esempio la cosa che dico spesso alle ragazze che quando ci si presenta ci si dimentica subito il nome questa è una cosa che puoi dire alle ragazze oppure una cosa che ho notato nelle mie esperienze che più giù più si va nel sud Italia più il colore degli occhi diventa scuro magari questa è una cosa che non sapevi una cosa che puoi riproporre alle ragazze quindi queste dinamiche riguardo alla personalità all'essere umano sono cose che magari alcune cose che non sapevi le puoi riutilizzare però copia con un minimo di senso non a caso altro consiglio molto importante non guardare la tv io non ho la tv in casa non guardo tv da anni e anni non saprei quantificare però penso forse un 5, 6, 7, 8 anni non lo so giù di lì non guardare la tv questo è un passaggio che soffrono molto alcune persone non ti serve assolutamente a nulla potrei dilungarmi in una maniera incredibile adesso questo discorso ma non serve semplicemente prendi il consiglio di una persona che ha esperienza cosa ci guadagno qual è il mio ritorno niente non mi cambia assolutamente niente se lo fai o no quindi lo sto dicendo per te non guardare la tv ti rende più stupido questa è la cosa importante è che ti rende più stupido e ti dà argomenti di conversazione che sono assolutamente inutili e noiosi per la ragazza se hai il tuo programma preferito che vai in onda mercoledì sera alle 9 bene benissimo accendi la tv per quell'orario e ti guardi il tuo programma preferito che vai in onda solo in tv a quell'ora bene benissimo ma non stare a far zapping non guardare il telegiornale è una cosa assolutamente inutile potrei dilungarmi tantissimo ma non serve non serve adesso in questo videocorso quindi non guardare la tv ti rende più stupido ti dà argomenti di conversazione inutili soprattutto con ragazze di alto valore parlarle del del meteo perché le persone finiscono a parlare del meteo perché guardano le previsioni del meteo alla tv ok oppure non cioè se con una ragazza di alto valore le parli della politica e del calcio oppure delle disgrazie oppure di che cazzo ne so perché non guardo la tv oppure del del grande fratello cioè no può avere un impatto magari se ti approcci con una ragazza di quel livello non penso che il tuo target siano ragazze che magari guardano il grande fratello non lo so ci potremmo adentrare in altri discorsi se il tuo target è quello avere come argomento di conversazione il grande fratello che non so anche se esiste ancora come programma in quel caso va bene anzi vi trovate anche molto bene a conversare ma di solito non è così soprattutto più la ragazza diciamo è di alto valore quindi a livello di bellezza a livello di cosa fai nella vita a livello di personalità a livello di interessi a livello di stia di vita su tutte cose se ti approcci con una ragazza di molto alto valore e le parli di queste cose qua diciamo sei abbastanza tagliato fuori dopo tipo due secondi altro consiglio non metterla sul piedistallo quindi non farle per esempio complimenti inutili va bene farle il complimento sull'aspetto fisico all'inizio quindi ti ho vista mi sei sembrata carina ok carina va bene ma non ti ho vista sei bellissima mi sono innamorato di te quello è metterla sul piedistallo la stai mettendo a un livello superiore al tuo e nel momento in cui tu vedi una persona a un livello superiore al tuo sarai più a disagio nel parlarne cioè nel parlarci ok quindi mi rendo conto con ragazze molto belle è molto facile sentirsi in soggezione ok quindi questa qua è chiaramente un lavoro più lungo che si fa con la pratica quindi nel momento in cui approcci tante ragazze molto belle vedi che non succede niente vedi che ci riesci a parlare tranquillamente vedi che sono degli esseri umani come te soprattutto se inizi ad avere anche dei risultati inizi anche a frequentarle magari ragazze molto belle vedi che alla fine non è niente di che hanno i loro problemi di vita poi struccate sono per esempio le modelle diciamo questa cosa qua l'avevo sentita da una persona appunto che in passato era proprietario di un'agenzia di modelle e praticamente non mi ricordo che frase mi aveva detto mi aveva detto una cosa del tipo provo a recuperarla nella mia memoria diceva che non esistono ragazze belle o brutte esistono ragazze pigre e ragazze non pigre nel senso che le ragazze brutte sono semplicemente ragazze pigre che non hanno voglia di curare il proprio aspetto fisico le modelle quelle ragazze molto molto belle che vedi nelle pubblicità io a Milano perché la città in cui vivo attualmente diciamo si vedono molto facilmente ragazze che fanno le modelle soprattutto se giri per zone centrali come Piazza Duomo ma vedendole struccate si sono ragazze normali come le altre e che ci mettono un'attenzione enorme nel loro aspetto fisico anche nel comprare i vestiti nel curare la pelle cioè c'è dietro tutta una coreografia enorme che poi ti dà come risultato che lei è bellissima ormai questa cosa l'ho vista così tante volte anche quando sono struccate quando sono normali quindi per quello sarebbe bene anche avere risultati poi con le ragazze quindi vederle anche poi nude vederle poi frequentarle e vedere che magari poi un giorno magari si truccano di meno non sono tutte messe in tiro come quando sono quando vengono dal primo appuntamento o come quando le approcci e vedi tutto il retroscena ok? devi desensibilizzarti a questa cosa della bellezza quindi facci caso intanto per esempio una cosa che ho introdotto io da meno di un anno tutte le volte che magari sono con qualcuno e mi dice no guarda quella lì che figa oppure magari mi fanno vedere un profilo Instagram di una mi dicono no ma guarda questa che figa io proprio faccio lo sforzo conscio di dire a me stesso come tutte le altre come tante altre perché sono tutte strafighe su Instagram oppure dal vivo se sono molto truccate molto ben vestite sono tutte bellissime strafighe però ricordati che c'è dietro una coreografia enorme perché siano così belle e strafighe ok? quindi fai questo sforzo conscio quando qualcuno ti dice minchia guarda quella lì bellissima oppure anche quando tu vedi una che la vedi e dici minchia questa è bellissima ricordati tutta la coreografia che c'è dietro ok? se non è truccata e se diciamo se condividi di normali cioè sarebbe come come tutte le altre ok? senza l'effetto gli effetti con i filtri di Instagram senza Photoshop senza le varie luci le varie modifiche che si fanno alle foto sono ragazze normali ok? quindi ricordati di tutta la coreografia che c'è dietro per fare in modo che lei sia così bella quindi questo ti aiuta nel non metterla sul piedistallo ricordati sempre per il discorso del non metterla sul piedistallo che anche le ragazze fanno la cacca ok? e questa cosa ricordatela prima di approcciarla e ricordatela anche quando sei lì con lei chiaramente questo lo puoi applicare con ragazze con le quali ti senti in soggezione ad andarci a parlare quindi ricordati di queste cose prima dell'approccio ricordati di tutta la coreografia che c'è dietro per fare in modo che lei sia così bella ricordati che anche lei fa la cacca ricordatelo prima dell'approccio ricordatelo mentre sei lì a parlare con lei che magari la vedi tutta bellissima femminile con il profumo ricordati che anche lei fa la cacca ok? questa cosa ti aiuta farlo proprio mentre sei lì con lei cerca di ricordartelo in modo da togliere dal piedistallo perché? una persona superiore ti senti molto più in soggezione di conseguenza sei più bloccato nella conversazione quello ti serve appunto per vederla di più al tuo livello se non anche a un livello inferiore e di conseguenza scioglierti di più nella conversazione altro consiglio migliorati e impara costantemente cose nuove soprattutto più che altro a livello di crescita personale non tanto impara cose nuove a livello di cultura generale io per esempio sono dell'idea che la cultura generale sia assolutamente la cosa più inutile che esista se una cosa che sai non la puoi usare è inutile sapere dove è nato Garibaldi dove è morto Napoleone come si chiamavano i soldati di Garibaldi e che cazzo non serve a meno che non vai ai quiz a chi vuole essere milionario ma non serve nella vita quindi imparare cose che non sono applicabili per la tua vita è assolutamente inutile quindi impara cose che ti servono per la tua vita questo non è un videocorso sulla crescita personale però per esempio l'imparare a migliorarsi con le ragazze si passa attraverso una serie infinita di cose che è un lavoro in parallelo a livello di crescita personale per esempio il lavorare sulle paure è una cosa che ti porta diciamo molto più in alto rispetto a chiunque altro quindi acquisisci più valore acquisisci più sicurezza di conseguenza diciamo sei molto più sciolto e tranquillo in qualsiasi situazione e quindi di conseguenza con le ragazze nel momento in cui ti senti a tuo agio sciolto e tranquillo ti vengono tranquillamente anche argomenti di conversazione quindi questo qua è uno dei motivi per cui il migliorarsi quindi innalzare costantemente il tuo valore poi ti fa sentire più a tuo agio più sciolto e sicuro di conseguenza gli argomenti di conversazione escono molto più facilmente nel senso che in realtà gli argomenti di conversazione ci sono sempre però quando sei in ansia non riesci a vederli non riesci a cogliere gli agganci quindi innanzitutto migliorati costantemente per innalzare il tuo valore affinché tutto ciò che ho spiegato finora e l'altra cosa per il fatto che migliorandoti costantemente imparando costantemente nuove abilità nuove cose su qualsiasi cosa possa essere acquisisci nuove esperienze di vita e ricordiamoci le esperienze di vita sono argomenti di conversazione e ricordati anche che solo per il fatto che sei qui in questo videocorso in realtà devi già darti credito stai facendo una cosa che rientri nello 0,00001% della popolazione italiana tutti gli altri uomini non sono disposti a migliorarsi sono veramente una piccolissimissima percentuale quindi questo già ti dovrebbe dare più serenità nel sentirti con un valore più alto rispetto agli altri di conseguenza puoi sentirti più a tuo agio quindi qua stai imparando alcune cose continua il tuo percorso di crescita di miglioramento personale vedrai che ti sentirai sempre meglio sempre più a tuo agio ti capita mai di rimanere senza argomenti di conversazione con una ragazza al vivo? oppure ti capita mai di non provarci nemmeno perché non sapresti cosa dirle? se sì quello che fa per te è conversazione magnetica il corso più completo in Italia per imparare la conversazione dal vivo con ragazze sconosciute con tanto di esempi di conversazioni reali registrate con microfono nascosto il corso rimane acquistabile in sconto del 40% fino al 9 ottobre poi tornerà al suo prezzo di ristino per maggiori informazioni clicca sul link qui sotto in descrizione hai domande o dubbi? scrivi gratis su whatsapp a un nostro consulente esperto anche qui trovi il link cliccando qui sotto in descrizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti